È solo l'ultima in ordine di tempo, ma è probabile che altre ne seguiranno. Nell'attesa, tutt'altro che auspicabile, concentriamoci sull'oggi. Dopo l'inglese e la sudafricana, è stata appena isolata in Giappone una nuova variante del coronavirus SARS-CoV-2. Sembra ancora più contagiosa delle sue sorelle. Questa variante si sta diffondendo soprattutto nello stato di Amazonas, tanto che l'Italia ha deciso di fermare i voli in arrivo da quel paese. Tuttavia, è probabile che, in un modo o nell'altro, raggiunga anche l'Italia e l'Abruzzo. Per saperne di più, abbiamo chiesto lumi all'esperto Arturo Di Girolamo, infettivologo, sorpreso in un viaggio in macchina da un dipartimento all'altro. Le mutazioni del virus possono conferire nuove caratteristiche al virus, tra cui, ad esempio, una maggiore contagiosità o una minore sensibilità alla risposta immunitaria dell'uomo. Questo perché? Perché, ovviamente, soprattutto in questa fase in cui sono disponibili dei vaccini, oltre a preoccupare una diffusività maggiore del virus, quello che preoccupa è l'efficacia anche dei vaccini stessi. È stato notato, soprattutto nelle varianti cosiddette inglese, in quella italiana e quella sudafricana, una maggiore diffusibilità del virus, una maggiore contagiosità dello stesso. Quella che ha preoccupato un po' di più è la cosiddetta variante sudamericana, brasiliana, che sembra, almeno dalle prime analisi, conferire una minore sensibilità alla risposta anticorpale dell'ospite. Questo ovviamente è un dato assolutamente da verificare e quindi ci serviranno sicuramente altri studi per poterlo eventualmente confermare, ma dal punto di vista pratico dobbiamo dire che innanzitutto questa variante non è attualmente stata isolata nei paesi europei e soprattutto che sono in atto indagini sempre più approfondite con la ricerca proprio di queste varianti per capire quanto esse siano realmente presenti sul territorio. D'altro canto c'è anche da dire che al momento non sembra che ci sia una minore efficacia del vaccino e soprattutto dobbiamo ricordare che con le nuove tecnologie di produzione di questi vaccini un'eventuale variazione in tal senso potrebbe essere corretta in tempi molto rapidi e quindi mantenere un'efficacia della vaccinazione che comunque resta in questo momento una delle migliori armi che abbiamo a disposizione soprattutto quando potremo diffonderla a fasce ancora più estese della popolazione.